Sono Paolo Ricciarelli di Ivoclar Vivadent. Anche quest'anno Ivoclar Vivadent rinnova il suo abbinamento con un brand importante che è quello di IOP. Anche quest'anno Ivoclar ha deciso di stare vicino ai propri clienti in un aspetto decisamente innovativo che abbiamo riletto anche nel precongressuale con un titolo che è Tradizione e Innovazione che sposa perfettamente il momento di Ivoclar Vivadent. Siamo sul mercato con la presentazione di un prodotto nuovo come il dente SPE che segue una tradizione ormai cinquantennale del nostro prodotto di battaglia per quanto riguarda la protesi mobile e nello stesso tempo ricerca un'innovazione importante con l'aspetto digitale anche nel campo stesso della protesi mobile. Ci ritroviamo in queste giornate dove i relatori hanno presentato il prodotto per quanto riguarda il settore dentale futuristico con una visione sicuramente a due o tre anni dove l'elemento IMAX per quanto concerne la protesi estetica l'ha fatta da padrone. Un ringraziamento ancora per queste parole, questo spazio che ci è dedicato e al prossimo anno da Ivoclar Vivadent.